15 e 43 iniziamo questa seconda parte della puntata di oggi di Picnic, un dialogo tra le generazioni, come sempre in compagnia di Letizia e della sua rubrica settimanale dedicata proprio ai libri intergenerazionali. Ciao Letizia e bentornata a Picnic. Ciao Giulia. Allora Letizia, oramai la conoscete, ha 24 anni e sta facendo servizio civile presso il Centro Culturale Protestante e anche la Libreria Claudiana di Torino. È molto appassionata di libri, ne conosce veramente tanti e ci consiglia in questo spazio all'interno di Picnic delle letture intergenerazionali per scoprire un po' che cosa accade nella vita di ognuno di noi a seconda dell'età che abbiamo e anche della generazione alla quale apparteniamo. Oggi in particolare ci parla di un libro scritto da Fabrizio Buratto e pubblicato nel 2007 da Marsilio Editore intitolato Curriculum atipico di un trentenne tipico. Quindi siamo passati dall'adolescenza alla terza età, adesso ci fermiamo sui trent'anni, questa età un po' di mezzo. Che cosa succede alle persone quando hanno trent'anni e soprattutto che cosa ci racconta Buratto nel suo libro? Allora, prima di tutto vi faccio vedere il libro, è questo qui. È un libro particolare perché non è che sia un romanzo, è proprio un curriculum come dice il titolo. Un curriculum particolare perché è formato da voci, da capitoletti che sono delle voci come se fossero le cose che scriviamo tutti nel nostro curriculum, quindi nome, esperienze, professionali, formazione. Però tutte queste voci, anziché essere semplicemente dei dati asettici, sono delle proprie parti narrative e discorsive in cui Buratto inserisce delle emozioni, dei pensieri, dei ricordi che ci aiutano a conoscere effettivamente chi è, quindi la sua storia. Ci sono anche moltissimi flashback, tantissimi salti temporali tra il passato e il presente che ci permettono di capire come è arrivato ad essere quello che è e la sua vita, il suo percorso professionale ma non solo. Quindi scopriamo come si è cresciuto in Alessandria, lui è nato nel 74 e racconta anche alcune vicende che non centrano poi con la sua formazione professionale come possono essere ad esempio la sua infanzia nella casa di campagna dei suoi nonni nel Monferrato che non è funzionale dal punto di vista della sua formazione ma comunque contribuisce in gran parte a renderlo quello che è e fino alla sua formazione nell'università di Genova e alle sue prime esperienze lavorative come giornalista, come operatore di ripresa, come fotografo. E così impariamo a conoscere la figura dell'autore che in prima persona proprio racconta la sua storia. E' molto interessante questa cosa del fatto che appunto è strutturato come se fosse un curriculum. I curriculum come dice appunto l'autore stesso spesso è semplicemente un elenco di dati che vogliono dire poco, semplicemente sono messi uno dopo l'altro ed è interessante che lui invece riempia proprio queste caselle di significato con la sua storia, con ciò che ha vissuto. Insomma è molto carina diciamo questo scambio tra un curriculum asettico invece un libro pieno di emozioni, ricordi, pensieri e tra l'altro lui è di Alessandria ma anche tu sei di Alessandria Letizia quindi insomma ci puoi raccontare qualcosa, le cose che racconta lui, le hai vissute anche tu in qualche modo questo libro del 2007 quindi ovviamente magari su alcune cose è un po' datato però indubbiamente ci saranno dei punti in comune. Che cosa hai scoperto leggendolo? Sì, io ho rivisto tante esperienze, tanti luoghi, tanti personaggi in maniera molto vivida ad esempio parla dell'alluviene del 94 che c'è stata in Alessandria, a me ne hanno parlato, io non l'ho vissuta perché non ero ancora nata però me ne hanno parlato i miei genitori, anche mio fratello, i miei nonni e anche alcuni professori del racconta di alcune interrogazioni qui aveva fatto quasi scena muta nella sua esperienza del liceo classico e parla proprio di un professore che hanno avuto mia mamma e alcuni miei parenti quindi proprio sono riuscita a riconoscere molti luoghi veramente intergenerazionale questa cosa che ci stai dicendo, addirittura un professore che insomma viaggia in questo libro, nelle storie dei tuoi parenti molto molto bello, devo dire che hai fatto una scelta molto azzeccata ma a questo punto quali sono le tematiche principali di questo libro per cominciare a conoscerlo un po' meglio? che cos'è contenuto all'interno? sì, allora come abbiamo già detto un tema chiave è quello della generazione, della sua di chi è cresciuto negli anni 80 è una generazione che per certi versi si sente ingannata perché è schiacciata da una situazione socio-economica che difficilmente si lascia modificare è una generazione che è cresciuta con grandi aspettative da parte dei genitori che hanno detto facciamo molti sacrifici e poi vedrai che i risultati arriveranno e poi in realtà ci si ritrova in questa situazione di stallo, di difficoltà, di precarietà e infatti questa è la prima generazione degli anni del dopoguerra che si trova ad essere economicamente più in difficoltà rispetto a quelle dei propri genitori perché nel frattempo i tempi sono cambiati ma è difficile adattare la rappresentazione della realtà a quella che è effettivamente diventata la vita e quindi un altro tema chiave è quello della provvisorietà della vita non solamente dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista degli affetti della casa delle relazioni, ironicamente l'autore dice anche del rubinetto rotto in cucina che aspetta di essere aggiustato e tutto il futuro appare piuttosto incerto dice con grande ironia si sta come d'autunno sotto gli alberi le foglie quindi in attesa di essere calpestati, in attesa di essere spostati da una pulata di vento e messi chissà dove quindi si ritrova spesso in questa situazione in cui magari non si ha la possibilità di accedere a un mutuo si sente carichi di aspettative, di preoccupazioni non si ha un lavoro a tempo indeterminato anzi risulta quasi un'utopia si è consapevoli di tutti i problemi ambientali che sono destinati a peggiorare nel tempo quindi si hanno poche certezze anche a volte momenti di difficoltà per quanto riguarda la fiducia nel futuro e nonostante questo l'autore cerca sempre di essere ottimista lui si chiede che ruolo ha il caso all'interno della propria vita e si chiede ma deve proprio andare così? quella risposta che si dà con speranza è quella di provarci di essere ottimisti, di cercare di essere ottimisti consapevoli del fatto che molte cose accadono per caso e che il caso è spesso favorevole lui stesso scrive a un certo punto che gli sono capitate delle cose che lui considera fortunate in maniera straordinaria eppure si chiede ma quanti, chissà effettivamente quante persone leggendo questo libro magari si potrebbero riconoscere nella straordinarietà di tutti questi eventi che magari non sono così rari, così unici perché spesso così come lui per caso ha trovato vari lavori allo stesso modo possono capitare cose inaspettatamente belle, sorprendenti e infine un altro tema chiave è quello dell'identità cioè c'è proprio una riflessione sul modo di esprimersi di comunicare la propria identità, di rappresentarla cioè può un curriculum vitae definirci come si può raccontare chi si è come si può prescindere da tutte le cose che abbiamo passato tutti i pensieri, le emozioni che abbiamo vissuto quanto queste esperienze ci plasmano e anche cose che possono essere banali come alcune persone che ci hanno detto magari quella frase al momento giusto possono rivelarsi in realtà punti chiave all'interno della nostra storia e della nostra vita Beh, posso dire che sentendoti parlare pensavo tu stessi appunto raccontando di un libro scritto adesso cioè è veramente un libro del 2007 quindi comunque sono passati un po' di anni da quando è stato pubblicato eppure tutto ciò di cui hai parlato tutti gli argomenti chiave che ci hai elencato adesso sono veramente molto molto attuali sembra un libro scritto pochissimo tempo fa e che comunque racconta benissimo quello che vive adesso sono ancora una persona appunto che ha circa 30 anni che ha una vita ancora non definita anzi forse più si va avanti più effettivamente le certezze non sono più quelle di una volta cambiano costantemente e spesso è difficile e ci si può anche scoraggiare facilmente appunto perseguire in qualche modo i propri obiettivi perché cambiano sempre si ha l'impressione che sfuggano dalle mani quando uno è riuscito a raggiungerne uno deve già raggiungerne un altro forse è tutto molto meno definito rispetto a un tempo in cui era più chiaro quello che le persone potevano raggiungere forse eravamo anche appunto forse c'erano anche meno cose da desiderare in qualche modo il fatto che il mondo si sia allargato almeno dal nostro punto di vista così tanto fa sì che ci siano così tante cose che si possono potenzialmente raggiungere che alla fine uno non sa più da dove iniziare e ci si può perdere però è bellissimo il messaggio che hai dato quello dell'ottimismo di cui parla anche l'autore nel senso che a volte non tutto può essere progettato prima ma a volte sono appunto un elenco di eventi che ci portano da un'altra parte sì concordo pienamente e a questo punto ti chiederei Letizia ma è un libro intergenerazionale questo? io ti direi di sì perché forse sarà che entrambe siamo in questa fase un po' a metà tra insomma quando si è piccoli quando si diventa grande i 30 anni alla fine è un po' questo momento chiave della vita in cui uno dovrebbe decidere che cosa fare almeno la società ci dice che dobbiamo decidere cosa fare quindi sicuramente lo sento molto vicino a me però chiederei a te a questo punto secondo te è un libro che può interessare tutti in un modo o nell'altro? assolutamente sì l'autore l'ha scritto quando aveva 30 anni è stato pubblicato nel 2007 quando lui ne aveva 33 e però racconta di esperienze che tutti ci troviamo prima o poi ad affrontare anche solamente queste riflessioni sull'identità sulla precarietà sono forse caratteristiche di questa fase secondo per come è raccontata nel libro perché è proprio una generazione che si trova per il suo momento storico in questa condizione particolare però coinvolge sicuramente dubbi ed emozioni che affrontiamo tutti nell'arco della nostra vita quindi sicuramente lo consiglierei anche a persone di età diverse e lo consiglierai magari a chi deve passare chi deve comunque entrare in questa fase o a chi è incerto riguardo al proprio futuro chi ha bisogno magari anche dell'ottimismo e della speranza che viene trasmessa in questo libro e magari anche invece a chi queste difficoltà le ha già superate le ha già incontrate e vuole ripercorrere la propria storia e diventare sempre più consapevole della propria narrazione insomma quindi se avete già passato i 30 anni se dovete ancora arrivarci oppure se li state vivendo sicuramente questo è un libro molto azzeccato soprattutto per il fatto dell'ottimismo perché ogni tanto ci dimentichiamo che c'è anche della magia nell'ignoto spesso vogliamo tutto subito e invece magari confrontarsi anche attraverso un libro con una persona che appunto ha vissuto cose molto simili a quelle che magari stiamo vivendo noi può anche questo contribuire a farci vedere insomma la situazione da un punto di vista diverso e dopo tutto proprio questa rubrica all'interno di Picnic ha un po' questo obiettivo di capire che non siamo soli ognuno di noi vive vite diverse però tanti punti sono in comuni e questo è molto molto bello e quindi Letizia a questo punto visto che purtroppo sono quasi le quattro abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione ti chiederei un piccolo spoiler per la settimana prossima del libro di cui parleremo appunto e insomma se ci puoi dire qualcosina a riguardo assolutamente allora il prossimo giovedì parleremo di La linea che separa le cose di Davide Cali ve lo mostro è questo libro qui è un libro per ragazzi ma non solo che racconta soprattutto il percorso di crescita la linea che separa le cose è proprio questa linea tra due fasi della propria vita perfetto grazie mille allora se volete recuperarlo in biblioteca oppure se volete acquistarlo il libro di cui parleremo la prossima settimana è appunto La linea che separa le cose io ti ringrazio tantissimo Letizia come sempre per essere stata qui con noi per averci raccontato di questo libro molto interessante e ne approfitto anche per ricordarvi che se vi siete persi uno degli appuntamenti con Letizia potete andare sul nostro sito rbe.it oppure scrivere semplicemente Picnic un dialogo tra le generazioni il nome di questo programma e potete appunto ritrovare i podcast dei suoi interventi e quindi recuperare tutti i libri bellissimi di cui ci ha parlato grazie Letizia noi ci vediamo a questo punto la prossima settimana sempre di giovedì alle 15.30 grazie a te un saluto ciao ciao buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti voi se rimanete qui sintonizzati con noi su RBA insomma ci sarà adesso il GR locale e poi dopo la versione di Penelope con Corinne ciao a tutti e buon pomeriggio e buon pomeriggio a te